Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, nuovo in tutti i sensi, con Costruisci la spettacolare Tumblr Batmobile della trilogia del Cavaliere Oscuro. Guardate che meraviglia questo modello. Andiamo subito a vedere la prima uscita che è costata un euro. L'apro proprio con voi, non ho visto nulla. Facciamo tutto insieme. La scala è in una 8, la seconda uscita costerà 5,99, le successive uscite, e attenzione perché è composta da 120 uscite questa collezione, costeranno 12,99 euro cada una. Pneumatici anteriori extra grip, posteriori con scolpitura profonda, uno straordinario mezzo blindato con una carrozzeria ispirata alla tecnologia militare Stilt, con le sue geometrie di assetto Battle Mode e la possibilità di eiettare il Batpod. È una Batmobile a prova di artiglieria pesante, in grado di sfondare muri in cemento armato. Oggi puoi costruirla e ammirarla nella sua più fedele replica in scala. Abbiamo le luci della turbina con effetto anche del suono, luce LED. Abbiamo anche i flap posteriori servo comandati, così come anche... no, i flap posteriori sono mobili, sedili ad alta performance da racing e poi vediamo un po' cosa ci dicono anche. Le ruote sono in gomma morbida, con pneumatici tassellati, imponente motore posteriore a turbina, riprodotto in ogni dettaglio con spettacolari effetti luminosi e sonori. Sofisticata carrozzeria di metallo dal design militare, questo abbiamo detto che ha già le sagomature Stilt, l'aereo. Tetto dell'abitagolo servo comandato, quindi il tetto dove ci sarà l'entrata della tumbler, si aprirà a comando, sicuramente ci sarà un telecomando. Interni totalmente ispezionabili, con console retroilluminata, quindi bellissimo, avremo diciamo il cruscotto retroilluminato, ispirato ai comandi di digitale del jet da comandamento, appunto lo Stilt. Tra due settimane ed è la seconda uscita. Ecco qui l'apertura, vedete? Si apre in verticale, così. Quindi abbiamo il radar, la console di guida l'abbiamo già detto, tutti retroilluminati. Questo possiamo metterlo via, diamo un'occhiata all'interno del fascicolo e poi andiamo a vedere il contenuto e la prima fase di montaggio di questo primo numero. Controllo un attimo le luci, si sono accese, vedo un po' scuro. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi. E qui, se avete piacere di dare lettura, oltre che guardare le immagini, potrete farlo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, grazie di continuare a dare vita al canale. Invito tutti coloro i quali ancora non si sono iscritti, sempre che ne abbiano il piacere, di iscriversi al canale, attivare la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di questo genere. Anzi, di questo genere, sinceramente, non ne ho ancora. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Questo modello purtroppo non lo farò, non per scelta di gusti, perché lo farei e come, ma per un fatto economico. Se date un'occhiata alla mia playlist, vedrete quanti modelli sto facendo e sinceramente non mi è possibile affrontare ulteriori spese. E ripeto, l'avrei fatto. Quindi consiglio sicuramente agli amanti del genere di fare questo modello perché è bellissimo. Vi consiglio, sempre che possiate affrontare questa spesa, fatevi due calcoli perché è comunque una spesa importante. Vi consiglio l'offerta premium con pagamento, con carta di credito. Eviterete così di andare a pagare i bollettini a ogni consegna. Sarete sicuri che se durante la durata di tutta la collezione ci fossero mai degli aumenti di aliquido e fiscali, il vostro prezzo rimarrà invariato. E quindi vi consigliavo l'offerta premium per la bacheca, la vetrinetta che è molto bella, illuminata con led. Però attenzione perché a partire dalla sesta uscita, compresa la sesta uscita, voi dovrete aggiungere 1,50 euro in più. Quindi ai 12,99 euro del costo di ogni fascicolo andrete ad aggiungere 1,50 euro in più. E questo per 115 uscite. Quindi se consideriamo 1,50 euro in più per 115 uscite, fa 100, ve lo dico subito, un attimo solo perché non vi voglio dare false informazioni, ci mancherebbe. Allora dovrebbe essere un aumento appunto rispetto al prezzo del fascicolo di 172,50 euro. Comunque ragazzi fate 115 euro più la metà di 115 che fa 57,50 euro più 115 che fa 172,50 euro. Quindi ecco questo è quello che vi verrà a costare poi la teca. Però sicuramente è bella da esporre nella propria teca. Allora, vi ho detto già tutto, no? Qua abbiamo anche un questionario dove potrete sbizzarrirvi a rispondere alle domande. Io vi consiglio di farlo perché comunque ne tengono sempre conto di questi questionarii e queste aziende, in questo caso la Shet. Io lo farò, poi basterà semplicemente mettere nella busta che vi danno l'oro, non affrancate perché tutto ha spese l'oro e la imbucate. Tutto qui. Nella seconda uscita che costerà 5,99 euro troveremo i componenti per montare una delle due ruote anteriori. Se invece vi abbonate avrete gratis l'uscita numero 3 più l'uscita numero 4 e l'uscita numero 5 e i componenti. Fatemi leggere un attimo. Vedete sto facendo tutto con voi. Sì, ok, non mi era chiaro questo perché, come ho detto, la seconda uscita 5,99 euro e con il secondo invio si riceve gratis l'uscita numero 3 più l'uscita numero 4 più l'uscita numero 5, ma gratis ovviamente sarà solo l'uscita numero 3. Quindi ecco, si pagheranno 24,98, 25,98 di questi due numeri, il 4 e il 5, mentre il 3 sarà gratuito. In più il raccoglitore per i fascicoli, ce ne saranno sicuramente due, la t-shirt e taglia L, ve lo dico subito, il materiale ceramico, abbiamo la Mug, la tazzina, la tazza anzi, capienza 330 millilitri e il modello in scala 1,43 della Batmobile Tumblr nella sua teca. In più se paghi con Paypal o carta di credito, le spese gratis, come ho detto prima, abbiamo questa spilla che è larga circa 6 centimetri in metallo, anzi non è una spilla, cosa sto dicendo, è un portacchetto. insomma, non guardate i premi perché non è niente di che. Andiamo solo infine a vedere le misure, le misure del modello sono queste, 56 centimetri di lunghezza, per 35 centimetri di larghezza e per circa 19 centimetri di altezza. Questo l'abbiamo già detto, guardavo se c'era qualche notizia in più da darvi. Questo è il modello poi finito. Sto leggendo se c'è qualche cosa da dirvi in più, ma qui no. Ok, diamo via tutto e passiamo al montaggio. Sarebbe bello poterli fare tutti questi modelli, ma purtroppo, almeno per quanto mi riguarda, non si può. Andiamo a vedere la fattura del primo pezzo. Lo è verniciato molto bene anche dentro. Tutto in metallo. Poi abbiamo un cacciavite. Questa è trasparente, non sembra, ma è trasparente. Volevo, se riuscivo a farvi vedere il dito sotto, ma non riesco, c'è riflesso. Comunque, sono i vetri oscurati praticamente. Guardate, già solo questa in alluminio vale quello che è costata questa prima uscita. Che bella. Questi sono anche di plastica. I due pannelli con cavi. Eccoli qua. Uno e due. Questi. Poi abbiamo questi due pezzi qui. Aletta sinistra e destra. Questa è la sinistra, c'è la L qui. Controllate sempre i pezzi perché dovrete avere chiaramente L e R. E può succedere anche che si sbaglino e ve li mandino doppi. Quindi attenzione, controllate sempre. Poi abbiamo questi. che sono i due pistoni. Guardate che carini. Realizzati veramente bene. Se considerate un unico pezzo. E la verniciatura, visto che sono anche a vista, sono molto belli. Molto ben fatti. Privi di sbavature. Molto belli davvero. Poi andiamo avanti. Questo. Che è la carinatura sinistra e destra. Anche qui abbiamo le lettere. Abbiamo quasi finito. Questi due pezzi. Cannoncini. Guardate i cannoncini. La cosa bella è che hanno riprodotto. Scusatemi per le unghie ragazzi. Ma per chi mi ha seguito sugli altri video. Vedete? Ho messo una crema che è andata anche sotto le unghie. Che è una cosa apposta. Che però fa un colore. E quindi vi chiedo scusa. Concentratevi sui pezzi. E abbiate pazienza. Dicevo. Guardate che carine. che hanno il buco all'interno. Dove esce il proiettile. Hanno riprodotto anche un po' il buco. per dare questo senso di profondità. Bello. Qui. Dei cannoncini. Ecco qui. Qui non vi è alcuna lettera perché sono simmetrici. che si può mettere sia dalla parte che dall'altra. Andiamo a vedere poi cosa troviamo qui. Una serie di viti CM. Da avvitare nel metallo. M. La lettera finale indica metallo. Apertura facilitata del sacchetto. Sfregamento del dito pollice e indice. Abbiamo un biadesivo della 3M. Marca molto conosciuta e valida. Sono molto resistenti questi adesivi. Abbiamo il rinforzo. In plastica sempre. E questo è. Sono i due pannelli stilt. Sempre in plastica. Ok. Bene. Ho fatto vedere tutto. Adesso procediamo insieme al montaggio. Andiamo a prendere questi due. 1 e 2. Prendiamo i cannoncini. Ci dicono di inserirli così. Potete metterlo sia così che così. Non fa alcuna differenza. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa anche su questo. Perfetto. Poi. Prendiamo questo pezzo qui. Il più grande che abbiamo ricevuto in questa uscita. lo mettiamo così. Lo mettiamo così. E vado a vedere perché anch'io lo vedo per la prima volta. Ok. Prendiamo anche questi. Se no. Altrimenti senza questi non faccio nulla. Questi due pezzi qui. 1 e 2. Li vado a mettere qui. Allora. Questa è la L. Sinistro. Così. qui. Poi. Tenendolo fermo. Lettera L. Vedete. Qui. Aspettate. Eccolo lì. Tengo fermo. E prendo questo con la lettera L. Ovviamente. Lo vado a inserire qui. I due fori. Perfetto. Inquadrare e fare questi lavori è bellissimo. Soprattutto non uscire dall'inquadratura. Non è una cosa semplice per me. Ok. Ma no. Ragazzi. Ma Michele. No. Guardate. Scusatemi. Michele sta sbagliando. Ve ne sarete accorti tutti. Forché Michele. Eh. Per forza. Mi ha tratto in inganno perché sono io. Un. Un. Non gli dico cosa sono. Aspettate. Poi me lo vado a rivedere il filmato. E' perché forse avevo fatto giusto. Non lo so. Non mi scrivete niente nei commenti perché se me accorgerò di aver sbagliato veramente. Mi basterà già guardare il video. Ok. Da questa parte mettiamo quello con la lettera ovviamente la R. Quello per esclusione che ci è rimasto. però è importante che la r di questo pezzo che vedete sotto provo a spostare il fascicolo e magari riesco a mettere a fuoco meglio vediamo ecco vedete r con r ecco qui quindi abbiamo montato questi due adesso prendiamo il rinforzo mettiamo così vediamo ok questo più che in rinforzo tiene proprio perfettamente nelle sue sedi questi due pezzi che abbiamo appena messo ok prendiamo due viti cm che sono le uniche che ci hanno dato ecco qui vediamo se serve utilizzare un lubrificante per crearsi filetti no si avvita bene non vi serve qua ragazzi sapete che michele almeno per chi mi segue lo sa si crea sempre i filetti con del lubrificante solo nel metallo non nella plastica mai invece devo dire che qui si avvita bene e non serve quindi andasse creare nulla l'unica cosa posizionate di bene le plastiche perché non ci devono essere delle luci nel senso la luce che passa in mezzo tra un pezzo e l'altro tra pezzo di plastica il petal controllate che siano centrate bene poi prendiamo popola prendiamo questo così era messo qui prima di farlo andiamo a togliere ecco qua userò una piccola lima delle imperfezioni che sono dettate durante appunto l'iniezione del pezzo vengono staccati e rimangono queste queste imperfezioni qui perfetto deve aderire tutto perfettamente bene mi raccomando non fate montaggi affrettati allora andiamo a montare questo non usata assolutamente colla ecco qui premete solo in corrispondenza dei perni non premete in altri punti non serve quindi qui dove c'è questo perno sotto così e qui dove c'è quest'altro sopra deve essere tutto perfettamente aderente se non è aderente premete piano piano sui perni nuovamente su questo che esce di più e poi sull'altro non subito su un e basta altrimenti rischiate di romperlo facciamo la stessa cosa con l'altro guardate vedete questo pezzo quanto si vede non si può montare un pezzo così non si riuscirebbe mai a farlo aderire perfettamente dove deve aderire come deve aderire quindi mi raccomando poi mettete la lima per lungo eviterete di consumare di più da una parte piuttosto che dall'altra perfetto abbiamo un altro anche qui guardate sono piccole cose che fanno la differenza ok e andiamo a posizionarlo anche questo sempre premendo soltanto nel punto dove avete i perni mi raccomando ecco qua vedete che combaccia tutto perfettamente bene bene a questo punto cosa ci rimane ci dicono di mettere i due di adesivi due pezzettini ok il primo lo mettiamo qui guardate io non so se vi ho già detto che non farò questo modello perché prima di questo ho presentato anche il primo rumolo del guanto di Thanos lo avrei fatto molto volentieri ma purtroppo non posso fare anche questa collezione se l'ho già detto vi chiedo scusa ma lo dico nuovamente perché non me lo ricordo per quello che vi ho detto già prima se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da Michele mi contatti privatamente grazie ah prima non vi avevo fatto vedere il vetro quello superiore eccolo qui anche questo va corretto vedete se usate la lima così invece che così sarete sicuri di fare un ottimo lavoro perché se la usate così non siete bravi potreste creare un buco e poi è brutto da vedersi perché vi manca un pezzo di plastica e avete consumato con la lima per chi mi vede per la prima volta il canale di Michele è nato per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini affinché possano riuscire ad arrivare al scusate sto parlando ma sto anche pensando all'obiettivo finale che è quello di montare un modello senza recare a lui alcun danno ok adesso vi faccio vedere una cosa non fate l'errore di montarlo così o così perché vi sembra uguale non è uguale guardate bene dovete fare attenzione a tutte le piccolezze e ai dettagli che sono importanti guardate il taglio di questa plastica vedete che è obliqua se voi la mettete così non va bene la mettete lo stesso ma non va bene la parte questa qua deve andare contro il biadesivo così vedete guardate guardate cosa succede se io la metto al contrario vi rimane lo spazio entra lo stesso ma non va bene deve entrare così ok pulite bene tutto andiamo a togliere il biadesivo o meglio la protezione della pellicola del biadesivo se avete un ago è meglio per fare questa operazione perché vi basterà pizzicare la parte sopra della carta e avrete risolto queste pinzette ho avuto già modo di dirlo più di una volta che ci vengono fornite con un modello non valgono assolutamente nulla guardate non prendo neanche la carta figuriamoci oh mamma incredibile ok bene ricordatevi quello che ho detto prima premete solo ed esclusivamente sul biadesivo mettendo il dito dietro per contrastare la spinta e basta così ovviamente poi pulite i vetri alla fine con il vostro prodotto che riterrete più giusto da usare adesso prendiamo anche questi andiamo a mettere anche i biadesivi qua strano ci hanno dato i biadesivi giusti giusti e non un in più andiamo a metterlo qua così ecco ci hanno dato i biadesivi giusti 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 gi e quando uno è pignolo ragazzi vive male ora adesso questi vanno posizionati qua sopra sono uguali guardate vedete non c'è il pezzo è differente da mettere sopra o sotto però anche qui abbiamo queste imperfezioni da togliere fatemi guardare sì è proprio così abbiamo queste sbavature laterali vedete che non si possono vedere assolutamente ecco qui qua poi ce n'è ancora di più guardate che pezzo qui non lasciatele queste cose veramente sono brutte da vedersi abbiamo già delle linee molto marcate che sono le sue quindi cerchiamo di non fare l'errore di lasciare i pezzi così messi male cioè senza correggerli bene se hanno dei difetti ecco qua adesso senza fretta inseriamo i perni insieme e poi andiamo giù in questa maniera non premete qui non premete qui che rischiate di rompere quindi cosa mettiamo aspettate che devo cercare qualcosa questo vedete cacciavite sottile fate entrare sotto così se ancora più sottile ancora meglio questo no questo dai ecco qua facciamo la stessa cosa con quest'altra sotto perfetto ok questo lo abbiamo fatto cosa ci rimane adesso da fare il modello il pezzo del modello è questo prendiamo la parte con la lettera l eccola qui controlliamo anche qui che non ci sono sbavature ce n'è una qui la togliamo ok e la andiamo a mettere qui così allora andiamo inserirla con i due con i due perni qua sopra e con il primo perno lo mettiamo nel primo foro ecco qua così facciamo la stessa cosa dall'altra parte anche qui guardate e difetto che abbiamo difetto non è la parola un termine corretto difetto abbiamo proprio lo stesso discorso di prima dell'iniezione della plastica dove viene staccato il pezzo qua è a posto adesso attenzione a non consumare qui è questo pezzo qua che sborda non consumatelo perché questo è il pezzo dello stampo di quest'altra forma qui vi faccio vedere questo è il proseguo vedete dovete consumare solo dove c'è l'attacco dove viene staccato il pezzo mi raccomando primo foro così ecco qua fatemi controllare dovete avere la certezza che tutte le parti qua queste della plastica siano perfettamente aderenti al vetro questo qui oscurato mi raccomando altrimenti non l'avete inserito correttamente adesso andiamo a vedere ma penso che ci rimangono soltanto i pistoncini da mettere e abbiamo finito quindi prendiamo i due pistoncini qui non vi dovete preoccupare perché sono come ho detto prima simmetrici potete usarli sia questo da questa parte che questo non fa alcuna differenza e andiamo a mettere qui in questo foro uno qui aspettate ok uno su questo foro e uno qui adesso può capitare che molti facciano il danno perché avete fretta premete rompete il perno non lo fate guardate come si fa pollice e indici appoggiati sul metallo non sulla plastica perché se vi si piega di colpo si rompe così inserite questo e fate la stessa cosa sopra un po' da una parte e un po' dall'altra se non va bene lo correggete ma non premete subito perché lo danneggiate ok ci siamo quasi ok ci siamo quasi bene adesso vi faccio vedere una cosa questa è di gomma questa è di gomma ecco qua ecco qua ecco qua non è una cosa semplice non date tanto per scontato perché non è così semplice perché è così che deve inserirsi deve andare in battuta completamente vedete dove inizia la parte più alta stessa cosa qui altrimenti va inserito ancora facciamo la stessa cosa ovviamente dall'altra parte però io stavo pensando una cosa guardate un po' si riesce a togliere questo vediamo voi fate finta di non vedere quello che sto facendo faccio una prova perché sinceramente a volte ci fanno fare dei montaggi che sarebbero molto più semplici se li facessimo così vedete ecco guardate quel pezzo magari lo montiamo dopo perché è tutto più facile così ok ok poi voi montate come volete però io trovo che sia più semplice fare così adesso vado a rimettere questo e abbiamo finito ecco ecco voilà è bella eh veramente bella se vi piace questa tumblr fatela ragazzi perché è veramente bella vi consiglio anche la la vetrina la premium come vi ho detto prima ecco vedete guardate qua bisogna schiacciare ancora un po' guardate il pistone questa parte dorata sul nero vedete quindi ancora un po' ecco così perfetto fate attenzione ai perni facilmente li potrete rompere se non fate attenzione non lavorate bene con le dita mi raccomando bene la prossima uscita abbiamo detto che sarà la parte anteriore quindi la ruota una delle due ruote anteriori completa eccola qui io vi ringrazio del vostro tempo faccio un augurio con tutto il mio cuore a voi e a tutti i vostri cari più cari di un sereno fine anno e un altrettanto inizio nuovo anno 2023 mi raccomando ragazzi date un grande abbraccio ai vostri figli io non ne ho e non sono sposato non ho figli e quindi abbracciatele anche per me dai se avete piacere io vi ringrazio ciao a tutti e grazie del vostro tempo ciao a tutti